Dopo quasi due mesi dal lontano 2 ottobre quando superò il San Salvo, il Pineto torna alla vittoria a Casalinga e contemporaneamente vede lontana solo di due lunghezze la zona playoff. Un'alba adriatica irriconoscibile anche a detta del suo tecnico De Amicis, rimanda invece ancora una volta all'appuntamento con la vittoria esterna che oramai manca dal 25 settembre scorso, quando gli albenzi si imposero a Castel di Sangro. Gara non bella, avara di emozioni, nella quale ha avuto la meglio la squadra più concreta e decisa. Tante le assenze di peso, Trento, Natarelli e Tancredi tra i locali, De Berardini e Arietti tra gli ospiti. La prima conclusione della sfida è di marca al Benze. Dodicesimo, lancio di Palmarini, conclusione di Liguori, para Emanuele di Furia. Pronta la risposta locale, quindicesimo, Miani fa tutto da solo in area, ma alla fine non riesce a finalizzare. Poi arrivano le reti. Diciannovesimo, azione di Miani, si accende una mischia sottoporta, l'ultimo a toccare il pallone è Faieta che porta in vantaggio i locali. L'alba non ci sta e al ventisettesimo impatta. Spinozzi va alla conclusione dalla destra, palo pieno, sulla ribattuta si avventa Rastelli che finalizza con un tiro di forza. Tutta qui la prima frazione. Anche nella ripresa le azioni si contano con il contagocce. Al dodicesimo, su un'uscita di Benigni, Miani termina a terra in area. A protestare sono tutti. I pinettesi chiedono il rigore, gli albenzi la simulazione di Miani. Paolucci se ne lava le mani ed ordina una semplice rimessa dal fondo. Al ventesimo di Amicis gioca la carta del bomber Ridolfi che torna in campo dopo un infortunio. Ma al trentunesimo è il Pineto che passa. Punizione calciata da Di Felice, la palla si infrange sulla barriera. Ci riprova quindi Di Felice e al secondo tentativo trafigge per la seconda volta Benigni. Il forcing finale al Benze non produce gli esiti sperati. Trentaquattresimo ci prova Ridolfi, la retroguardia locale alla meglio. Quarantesimo corner di Spinozzi ci prova Ianni in scivolata ma la palla termina fuori. Quarantottesimo ancora Ridolfi perde l'attimo giusto per il tiro. La conclusione è quindi debole. A fine gara di Amicis non si spiega la brutta prestazione dei suoi, mentre il presidente locale Brocco preferisce continuare a volare basso. È stata una pessima albadriatica, è inutile nascondersi. Approcciata male, finita peggio. Irriconoscibili veramente. Non capisco che adesso è così a caldo. Non capisco il motivo perché sono mancati sotto tutti gli aspetti. Anche se alla fine troppo la pareggiamo. Abbiamo avuto l'occasione per pareggiarlo ma sarebbe stato ingiusto il risultato perché il Pineto ha meritato di vincere. Ripeto, adesso è presto. Dovrò fare delle valutazioni attente perché un albadriatica così impreparata sotto tutti i punti di vista quest'anno non era mai capitato. È chiaro che l'allenatore si deve prendere le sue responsabilità. Quando affronti una gara così e non ti fai trovare pronto è giusto che l'allenatore non ha saputo motivare evidentemente al meglio la propria squadra. Per cui è giusto che si prenda le proprie responsabilità. Però è chiaro che è una partita che non mi aspettavo assolutamente. Insomma, aspettavo ben altro. Presidente, una vittoria dal valore come il Platino visto che questo Pineto è a due punti dalla zona playoff. Sicuramente è stata una gran bella partita, una bella vittoria. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza esclusione di colpi. Chiaramente l'albadriatica ha il suo spessore di squadra. Però devo dire che i nostri ragazzi si sono impegnati fino alla fine, hanno cercato volutamente questa vittoria e ci sono riusciti. Con questa vittoria può cambiare qualcosa negli obiettivi di questo Pineto? No, no, assolutamente. Il Pineto è stato impostato per un camminato tranquillo. Sempre con l'obiettivo di lanciare i giovani, di mantenere la categoria e di far sì che il settore giovanile vada sempre più e acquista più valore. Per Natarelli e Trento purtroppo la stagione è quasi finita, anzi definitivamente è finita per infortunio. Tornerà sul mercato la sua società a dicembre? Penso che troveremo sicuramente qualche ragazzo disponibile ad arricchire la rosa. Per Natarelli e Trento il nostro è un dispiacere enorme perché due ragazzi importanti che dovranno subire un intervento chirurgico perché ci sono delle fratture dei crociati e lì c'è poco da fare. Penso che veramente per quest'anno il campionato per loro è finito.